Introduzione Nel 2019 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un rapporto sulle possibilità di riconoscimento legale delle lingue dei segni svizzere. Nel rapporto il Governo doveva anche illustrare la situazione della Svizzera nel confronto internazionale e mostrare dove le possibilità di partecipazione alla formazione, al mercato del lavoro e all'assistenza sanitaria delle persone non udenti, possono essere migliorate. Storia e situazione delle persone non udenti in Svizzera La prima parte del rapporto fornisce un quadro della storia e della situazione attuale delle persone non udenti in Svizzera. In Svizzera vivono circa 10.000 persone non udenti dalla nascita. Per molte di loro la lingua dei segni è la prima lingua. La Svizzera ha tre lingue dei segni. La lingua dei segni svizzero-tedesca, la lingua dei segni francese e la lingua dei segni italiana. Per le persone non udenti, la lingua dei segni e la cultura dei sordi sono parte dell'identità. D'altra parte, però, le persone non udenti vogliono partecipare a pieno titolo alla società degli udenti. In Svizzera, come in altri paesi, la lingua dei segni è stata a lungo repressa. I bambini sordi erano costretti a imparare il linguaggio parlato. A causa della promozione unilaterale del linguaggio parlato, le persone non udenti sono state svantaggiate nella formazione e nella vita lavorativa. Bambini e giovani sordi o audiolesi sono stati anche vittima di violenza nelle scuole per sordi. E donne sorde sono state obbligate a sterilizzarsi. Oggi è indiscusso che la lingua dei segni è una lingua a pieno titolo, anche grazie al fatto che le persone non udenti si sono impegnate attivamente per la propria lingua. È su loro pressione che, a partire dagli anni 80, si è cominciato ad organizzare corsi di lingua dei segni e a offrire servizi di interpretariato, sistemi di videocomunicazione per sordi, trasmissioni televisive in lingua dei segni o sottotitolate e a condurre lavori di ricerca sulla lingua dei segni. Nel 1993 le persone non udenti hanno chiesto in una petizione che la lingua dei segni fosse riconosciuta e promossa. Negli ultimi anni la richiesta di un riconoscimento legale della lingua dei segni ha riguadagnato visibilità. Molte persone non udenti si attendono che un riconoscimento legale della lingua dei segni comporti miglioramenti concreti, per esempio nell'accesso alla formazione e al mercato del lavoro o nella rimunerazione delle prestazioni di interpretariato. Sviluppi internazionali. La seconda parte del rapporto dà un quadro delle iniziative per il riconoscimento della lingua dei segni a livello internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è finora l'unica convenzione internazionale che cita espressamente la lingua dei segni e ne chiede il riconoscimento da parte degli stati firmatari. Nella convenzione la comunità dei non udenti è trattata come una minoranza linguistica e culturale. Anche gli organi del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea si sono ripetutamente occupati del tema. Ad oggi la maggioranza dei paesi europei ha riconosciuto legalmente una o più lingue dei segni. La forma del riconoscimento e i diritti che ne discendono sono tuttavia diversi da paese a paese. Non è sempre chiaro quali effetti si possano effettivamente ottenere con un riconoscimento legale. Misure vigenti e approcci per l'ulteriore sviluppo. La Svizzera è tra gli stati che non riconoscono esplicitamente la lingua dei segni. Fanno eccezione i cantoni di Zurigo e Ginevra, le cui costituzioni citano la lingua dei segni quale parte della libertà di lingua o dei diritti delle persone con disabilità. In diversi cantoni sono attualmente pendenti interventi parlamentari che chiedono un riconoscimento legale. La terza parte del rapporto mostra come già oggi la Confederazione e i cantoni promuovano l'utilizzo della lingua dei segni con numerose misure. Anche se non rappresentano un riconoscimento legale esplicito, queste misure sono però espressione di riconoscimento e apprezzamento della lingua e della cultura delle persone non udenti. Misure vigenti. Accessibilità. La legislazione sulle pari opportunità delle persone con disabilità obbliga le autorità a tener conto delle esigenze delle persone audiolese o non udenti, a rendere accessibili in lingua dei segni informazioni importanti e ad assumere i costi dei servizi di interpretariato necessari nei contatti. È inoltre agevolato l'accesso alle trasmissioni televisive e ai film proiettati nelle sale cinematografiche. Dell'assistenza di base fa inoltre parte la messa a disposizione di servizi di videocomunicazione per sordi. Misure vigenti. Lavoro. L'assicurazione in validità promuove l'integrazione professionale, in particolare finanziando interpreti in lingua dei segni. Inoltre, la Confederazione promuove l'assunzione di persone con disabilità nell'amministrazione federale. Con il programma Pari opportunità e lavoro intende migliorare le condizioni quadro per l'assunzione di persone con disabilità, e quindi anche persone audiolese o non udenti, e promuovere ambienti di lavoro inclusivi. Misure vigenti. Formazione. La formazione è di competenza dei cantoni. La legge sui disabili obbliga i cantoni a provvedere a che i bambini e i giovani audiolesi e i loro familiari possano apprendere una tecnica di comunicazione adeguata. La lingua dei segni è una di queste tecniche. Lo stato di avanzamento dell'attuazione varia da cantone a cantone. Ad oggi le offerte di formazione bilingue non coprono ancora tutto il territorio. Per le persone non udenti resta un ostacolo soprattutto l'accesso a formazioni più approfondite. Misure vigenti. Assistenza sanitaria. Anche le persone audiolese o non udenti hanno diritto a un'assistenza sanitaria di qualità. L'attuazione compete in primo luogo ai cantoni e ai fornitori di prestazioni del sistema sanitario. Un ostacolo concreto è rappresentato dalla remunerazione dei costi dei servizi di interpretariato per visite e trattamenti. La conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità raccomanda di includere questi costi negli importi forfettari e nelle tariffe del settore ambulatoriale. Possibilità di riconoscimento legale delle lingue dei segni svizzere. La quarta parte del rapporto descrive cinque possibilità della Confederazione di riconoscere legalmente la lingua dei segni. Il secondo video ne dà una panoramica. Conclusioni. La lingua dei segni è una lingua autonoma ed equivalente al linguaggio parlato. Per una Svizzera aperta ed eterogenea, la lingua e la cultura delle persone non udenti sono un arricchimento. Il Consiglio federale riconosce le prestazioni fornite quotidianamente dalle persone non udenti e il loro bisogno di riconoscimento e promozione della loro lingua e di apprezzamento sociale, anche in considerazione delle sofferenze e delle ingiustizie inflitte loro con la lunga repressione della loro lingua. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un'analisi dettagliata. Nel suo rapporto spiega che un riconoscimento legale esplicito delle lingue dei segni svizzere non è una condizione sine qua non per un ulteriore miglioramento della partecipazione sociale delle persone audiolese o non udenti. In effetti, gli approcci attualmente perseguiti, che puntano a un riconoscimento di fatto della lingua e della cultura delle persone non udenti, possono essere ulteriormente sviluppati e resi più visibili. Il rapporto del Consiglio federale sulla politica in favore delle persone disabili costituisce un quadro adeguato allo scopo. Il Consiglio federale non ritiene appropriato un ulteriore piano d'azione. Il Consiglio federale vede potenziale di miglioramento soprattutto nella formazione ed è disposto a promuovere il dialogo tra i servizi coinvolti e a impegnarsi maggiormente nella divulgazione delle possibilità di promozione disponibili. Un altro punto importante è il finanziamento delle prestazioni di interpretariato, che è un presupposto essenziale affinché le persone non udenti possano partecipare pienamente al mercato del lavoro, alla vita culturale e alle attività del tempo libero e avere pari opportunità d'accesso all'assistenza sanitaria. Per questo i servizi competenti della Confederazione monitorano costantemente l'appropriatezza e l'efficacia delle misure in atto. Il Consiglio federale intende inoltre intensificare il dialogo con le organizzazioni delle persone non udenti. A questo scopo incarica il Dipartimento federale dell'Interno di instaurare un dialogo strutturato con la comunità dei non udenti, i competenti servizi di Confederazione, Cantone e altri attori e di esaminare a fondo le possibilità di miglioramento segnalate nel presente rapporto.